Questa è la storia di un'idea, e di chi trovò la strada per farne una realtà. Così se noi siamo lontani, ci fa sentire più vicini e meno solino. Questa è Tim, e non si ferma mai, come un fiume che scorre per noi, la unica è vita. Una voce che come una luce brillerà, questa è Tim, e non si ferma mai, come un fiume che scorre per noi. E non si ferma mai, come un fiume che scorre per noi, verso un pari che nuovi orizzonti ci aprirà. Questa è Tim!